sono state ritrovate in questi giorni alcune bobine del ritorno di cagliostro ma lei ha mai sentito parlare di questo film ed è matrina anche cinematografica no il noto divo americano errol douglas è arrivato in sicilia per interpretare il ruolo del leggendario cagliostro tante scene è il cagliostro è il cagliostro è il cagliostro è il cagliostro è bello non capisce che c'è che non ho spinto ma non ho spinto ho spinto ho spinto al morse scopi il diavolo cagliostro cagliostro ma di quale film sto parlando come eminenza di quale film sto parlando del film sul cagliostro un ingesto cagliostro stop mi sembra una cosa veramente troppo ridicola mamma mia della croce cagliostro cagliostro